adesso diamo il via alla rubrica impara con suzuki ora vi insegno a fare i limoni allora limoni perché andiamo a disegnare sul ghiaccio la forma di un limone detta grossolana così imparata diciamo quello che spieghiamo ai bambini con i piedi creiamo prima una sorta di v e poi una sorta di tettuccio quindi uno e due utilizzando il movimento delle ginocchia lo faccio vedere un po' di tettuccio un po' di tettuccio